È importante essere qui al SAE per portare tutto il lavoro che le commissioni di lavoro nostre hanno fatto perché la nostra è una filiera di specializzazione e necessita di documentazione e certificazione degli applicatori perché per fare determinate lavorazioni sono necessarie il riconoscimento delle competenze. Il nostro intento è quello anche di incrociarci con altre realtà, con il mondo associativo e anche con il mondo dei professionisti. Io direi che è stato molto positivo perché abbiamo avuto delle tavole rotonde molto interessanti da sotto profilo tecnico c'è stata molta professionalità da parte di chi ha gestito queste tavole rotonde e soprattutto abbiamo verificato che c'è stata una partecipazione anche a livello di stand molto importante quindi vuol dire che la partecipazione alle fiere anche dai produttori è molto sentita. Grazie 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 Grazie